Venerdì 15 febbraio alle ore 19 presso i locali del Teatro del Sorriso di Bivio Pratole saranno presentate al pubblico le linee programmatiche del gruppo civico Progetto Comune. Le linee, come precisano dal gruppo, rappresentano la base della piattaforma programmatica elaborata ed organizzata sul web nella relativa pagina del gruppo, attraverso la quale a partire dal giorno 16 febbraio tutti i cittadini interessati potranno accedervi per lasciare il proprio contributo alla stesura definitiva del programma.